Benvenuto a Locusabella, che sarei io? Oggi è lunedì, per me, il mio corpo mi dice che è venerdì, però purtroppo il calendario smentisce tragicamente il mio corpo, perché il mio corpo dice è venerdì sera, sei già, non ho più l'età, non ho più l'età, non ho più l'età. Naturalmente ieri abbiamo fatto due video, uno sulla Bibbia, ma naturalmente sulla Bibbia, sul Vangelo Segreto di Marco, è un video sul quale non aspiro molte visualizzazioni, però naturalmente ogni tanto mi piace un po' uscire dai fumetti, cioè nel senso io adoro i fumetti, ma non è che sono un esperto, cioè ripetendo sempre questo, poi ogni tanto qualcuno dice no ma lei, no ma io non sono un esperto di fumetti, ne ho letti diversi, quindi certamente qualche fumetto nella mia vita l'ho letto, ma proprio due o tre, ne sono tantissimi, due, quattro, cinque, e quindi ne parlo così, nel senso di Dago, sono un lettore di lunga data, di lungo corso, questo non è il Dago di cui parliamo stasera, non è il Dago, bella copertina di Simeoni, Simeoni credo sia, sì, molto gomeziana, Simeoni, molto alla Gomez, molto bello questo Dago, ovviamente c'è un cavaliere putrullente, putrescente, che si putrulesce, che c'è la peste, ovviamente la peste, Dago la peste gli fa il baffo, qui gli fa andare a peste, la peste è arrivata a Dago e dice ma stai, lasciamo perdere, è irrefrattabile, è irrecuperabile, si sono un po' delirante stasera, quindi questo video lo prendete un po' così, no, dicevo io non sono un esperto di fumetti, quindi sono uno che mi ha letto, quindi poi naturalmente mi piace anche parlare di Dago, che è un fumetto che, questo vi ripeto, non è il Dago di Gomez, anche perché Gomez è di Wood e di Gomez, anche perché Wood è morto, quindi Nestor Barron e Caliva, però Caliva è un grande disegnatore, apparentemente potrebbe sembrarvi non, però, lavoro ancora col pennino, insomma, si capisce che queste cose sono state fatte su carta, cioè Caliva, Alberto Caliva, che è ormai un'età, per curiosità mi guarda Alberto Caliva, che sarà sicuramente su Wikipedia, non diciamolo perché, Alberto Fremura, Caliva, è questo qua, Alberto Caliva, di Sionese, questo qua, c'è la Barba Blanca, ovviamente è un grandissimo disegnatore di Dago, il cobra eccetera eccetera comunque è un grandissimo disegnatore fidatevi non è un mesterante è un maestro del fumetto argentino e ovviamente ha uno stile che ovviamente abbia l'altro ieri due o tre giorni fa abbiamo visto Castelli ci descrive le sceneggiature di Martin Misteri il fumetto argentino è tutta un'altra cosa anche perché nella pagina di questa qui di solito sono al massimo tre o quattro vignette Caliva il disegno di Caliva è sempre è sempre abbastanza schizzato e impressionista però ha una soprattutto nei volti grotteschi e mostruosi insomma è molto molto argentino nel senso che la cupezza del tratto cioè quando si entra nel fumetto argentino si entra in un mondo più cupo a volte anche in Falca che insomma è un fumetto dove si vedono anche belle donne però è sempre un fumetto cupo nel senso che quando si entra nel fumetto argentino tendenzialmente non è bene colorare il fumetto argentino perché il fumetto argentino deve essere in bianco e nero come colorare l'eternauta colorare l'eternauta per me è una bestialità perché poi c'è il colore è sulla neve sulla neve di che colore la fai né bianca però proprio il tono del fumetto argentino che è l'inchiostro come sangue quindi non so se ce l'anno ovviamente però i volti di Caliva sono sempre molto incisivi ecco voglio dire se vi abituate a questo tipo di fumetto che non che lavora ancora in maniera artigianale in un mondo in cui insomma si lavora tutto il computer eccetera eccetera via rendete conto che Caliva è un grandissimo maestro e il volto di Dago è sempre molto interessante molto cioè non è ovviamente come però non è cioè è un volto molto più mi verrebbe di dire il nome di Goya che naturalmente sembra un'eresia ma i disastri gli orrori della guerra eccetera eccetera ricorda un po' questo disegno spagnolo gli argentini sono di origine spagnola ovviamente alcuni che ovviamente tutto questo ovviamente non vi dovrei dire che si dica un'altra volta ovviamente mi sparo che ci danno questo cioè quando vedete le incisioni di Goya gli orrori della guerra eccetera eccetera è il sueno della ragione in genera mostri non so come è il sueno della ragione genera mostri oppure le fantasie oniriche di Goya insomma tutte le cose lì che sono molto inquietanti e che lì va qualcosa di questo modo in questo mondo inquietante questo è un personaggio che non dorme mai insomma ricorda un racconto di Borges sulla memoria di un uomo che ricordava tutto insomma non mi ricordo Borges sulla memoria Borges racconto sulla memoria Borges memoria a funeo della memoria sì funeo della memoria che è un racconto di finzioni di Borges se non avete letto finzioni e che campata fa scherzo no un libricino piccolo ovviamente piccolo si legge in una serata finzioni sicuramente piccolo Borges non è uno scrittore di non è tostò il Borges non è tostò non è che sia meno va ma ha uno stile di scrittura molto geometrico più all'edgarla un po' cioè nel senso che Fionet della memoria appunto narra di un uomo che non dimentica nulla pensate se voi ricordaste tutto tutto quello che c'è tendenzialmente noi a fine giornata se ritorniamo con la mente a quello che ci è accaduto ci appaiono 4-5 immagini di quello che abbiamo vissuto nell'arco di 24 ore ma se voi prima andate a letto quante immagini c'è sì vi ritornano ma eppure avete vissuto minuti 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 se uno ricordasse tutto esattamente la mente dovrebbe per ricordare una giornata ce ne vorrebbe un'altra non so se ci capisce quindi la mente deve fare forzatamente un lavoro di sintesi su questo non ci riflettiamo molto quindi no la storia è molto Cuba non faccio spoiler insomma Dago arriva in un paese del nord che si chiama la Lavonia Livonia o qualcosa di simile con una nave ovviamente ci sono alcuni temi una nave che lo porta nei paesi del nord dove una sorta di monstruoso come si chiama gigante delle saghe vichinghe eccetera Livonia come è stato Lavonia Livonia ma Terra Mariana così la Livonia Livonia io ci vado sempre d'estate al mare a Livonia a Mariana che ci vado sempre a fare bagni di salute è ovvio che Barron riprende molto spesso Wood ha fatto molte delle sue saghe sono ambientate nel paese dei vichinghi anche nel culo della saga c'erano dei vichinghi che erano nella foresta amazzonica riprendendo ho trovato l'uomo bianco un libro famoso che non lascerei perdere perché anch'io sono della fucetta una delle mie maledizioni è che ricordo molto cioè non che ricordi come funemma per questa volta le menti le immagini si confondono perché ho troppa roba nella testa quindi poi è arrivata una certa età bisognerebbe morire e ricominciare da capo come dico nei buddhisti a un certo punto muori svuoti tutto e riparti dal teatro oppure va all'inferno in paradiso non so fate voi se non mi interessa la cosa che non mi interessa io ho la mia filosofia di vita che che sì sono nato cattolico apostolico romano la santa chiesa cattolica e morirò in quella però in questa chiesa sono un eretico quindi sono un eretico buddhistico il mio mondo è un mondo contraddittorio nel senso se voi avete un mondo razionale un mondo dove tutto è limpido liscio razionale non siete amici no io sono molto contraddittorio quindi da una parte ho l'entanto tra l'esmaug per l'eglise sono nato recitando decine e decine di rosà di c'è come quei termini però da una parte sono buddista da una parte c'è tutto questo è messo in mischia e non c'è una contraddizione anche se la contraddizione c'è ovviamente ma alla fine sento che tutta la vita è una contraddizione come indago tutto e quindi non mi sento neanche di risolvere le mie contraddizioni le risolverà la morte insomma e ovviamente in questo racconto Dago si trova vabbè c'è una solita avventura con la con la con la Fantesca Fantesca io ho mai trovato queste cioè Dago c'era sempre la Fantesca bionda vichinga che insomma io ho mai questa invidia mia che ovviamente Dago c'è questa è sempre una sorta di topos topos letteraria che non pensiamo male non ci si scura colleghi ma non lo so le colleghi che chiamo cioè ieri ero ma io perché vado anche molto spesso a messa quindi vado a messa ma perché mi chiama domenica mattina cioè cosa dobbiamo dirci domenica mattina o di sabato o lunedì sera cioè no ci vediamo tutti i santi giorni che Dio mette sulla terra no io ho una mia filosofia di vita un giorno ve la spiegherò sui rapporti umani rapporti umani che ve lo accendo molto velocemente io sono stato praticamente rifiutato dalla mia famiglia nel senso rifiutato dai propri genitori è piuttosto pesante come cosa quindi la mia filosofia è che che non mi deriva no che non inseguo le persone nel senso ho patito così tanto per quel rifiuto ovviamente se non ti mette al mondo tu ti aspetti ok messa al mondo lui non è che ha chiesto a te scusa non è che ha detto vabbè quindi non inseguo le persone non è non mi fa troppa fatica inseguire le persone cioè chi vuole stare con me ci sta chi non ci vuole stare non ci sta e soprattutto non mi rompete le scatola domenica mattina il sabato sera anche di sera perché cosa ci dobbiamo dire almeno non sia successo ma è qualcosa ovviamente di fondamentale no la mia filosofia è molto da gara solo che io rispetto a Dago non ho tutti questi incontri con queste fantesche che certamente lui ha naturalmente direte sei invidioso è ovvio che sì è ovvio che sì vabbè a parte l'incontro con la fantesca che è un topos letterario che risale a Vult nel senso Dago ovviamente arriva in un paese va nell'osteria più scaccia di questo mondo ma c'è sempre una bionda strepitosa servetamoli e vabbè che naturalmente passerà la notte con lui mi sembra ovvio ci siano anche a discutere su questa cosa c'è proprio nel contratto di Dago e io questa sera devo e niente ovviamente si parla di peste di scontri di guerre di religione un ordine cavalderesco molto bello disegno di Caliva gli occhiali 34 e 500 erano fatti così un oscuro maestro che manipola la peste un'oscura congiura è un mondo senza speranza ma il personaggio più interessante è questo uomo che non dorme mai e che ricorda tutto naturalmente sapete che se non si dorme prima si impazzisce infatti a me sembra un esperimento nello sovietico ovviamente il sonno sempre per tornare la memoria a un certo punto il nostro cervello ha bisogno di spengere la parte cosciente che è quella che sto usando molto così alla strafugia cioè la mia parte cosciente è molto così e poi durante il sonno i sogni riescono rielaborano fanno collegamenti tra quello che è successo al giorno con i ricordi dell'infanzia eccetera eccetera e quindi sistemano un po' le cose ovviamente è una funzione importantissima il sonno e il dormire dell'uomo ora pare Napoleone dormisse quattro ore a notte anche Berlusconi dice dormire quattro ore a notte non lo so ma è morto sia morto sia Napoleone che Berlusconi quindi io se dormo quattro ore a notte poi la maggiorno si fino alle due arrivo poi alle due c'è un crà no ma mi hanno fatto un orario quest'anno che era una cosa va bene un orario che non so come mi è stato fatto nel senso potrei anche protestare secondo me secondo me dal punto di vista sindacale non è neanche tanto non va bene questa è la scoperta della media sì perché in seconda media facciamo la scoperta della media a proposito di Dago e quindi no è un fumetto molto cupo nel senso ora non vi voglio far spoiler perché questa è una storia nuova di Barron Barron mi sembra che sia migliorato ultimamente insomma rispetto alle prossime storie è sempre di Barron e i Bagnès che sono sempre dei disegnatori argentini a me piacciono molto i disegnatori argentini anche se immagino che per chi segue Zago il text insomma non siano però a me piace molto questo tipo di disegni che apparentemente è molto a parte crudo apparentemente meno curato può sembrare meno curato in realtà è uno stile è uno stile di disegno per cui anche quando poi Caliva disegna il volto di Dago disegna tanta roba quindi insomma è veramente bello poi si capisce che lavora con i pennini cioè a me uno già che lavora con i pennini nel 2023 io lo amo lo amo e lo adoro sposerò Caliva sposerò Simon le bocce a fine degli anni 80 sposerò Caliva che Caliva sai che coppia che coppia che coppia che ha coppiata naturalmente per entrare nel fumetto argentino bisogna entrare in un mondo cupo senza speranza anche questo fumetto in realtà non è che i buoni cioè Dago mentre in Tex i buoni vengono sempre puniti anche Barrone ha capito che nel fumetto di Dago Dago non cerca tanto di punire i cattivi se può certo li punisce ma di preservare la vita degli innocenti i buoni non esistono poi in realtà il buono chi è buono io non sono buono ma per esempio anche Caliva che apparentemente ha un disegno se guardiamo Caliva e Zanotto ovviamente Zanotto e Zanotto però abbiamo sempre questa atmosfera cupo e questo inchiostro che da sempre dei sì vabbè qui vediamo Caliva e si Caliva che fa altri insomma comunque molto sexy però quando si entra nel fumetto cioè il fumetto argentino forse bisogna avere una certa predisposizione mentale e io certamente ce l'ho al a un mondo anche cupo e disperato cioè quando vede questa copertina dice cavolo è una morte d'allegria però io quando questa copertina mi mette allegria sembra strano perché io adoro le storie ho comprato storica ma questo non c'entra nulla per esempio c'è sui vampiri tutte queste cose qui è molto facile ho comprato per capire la mia mente che è molto perversa e vagata a parte la congiura di Cattina che lascerei perdere è ovvio che ecco io leggo questa roba qui Elliot le poesie di Elliot penso che siano delle cose più 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 sono delle botte di vita che ne so aprire la terra desolata capite già il titolo ti mette una zona una botta d'allegria aprire scroll smonto eccetera eccetera e quindi non so che dirvi non è un fumetto che vi consiglio naturalmente bisogna un po' entrarci nel mondo di Dago se uno non ci vuole entrare non ci entra queste non sono le storie di Robin Wood quindi sono perdibili nel senso che mentre su Robin Wood e Gomez in realtà sono più manicheo qui mi sembra essere meno manicheo la storia è bellina è carina è fatta bene è barrone è bravo ha quei toni giustamente cupi di Dago Dago è sempre l'eroe che non ha speranza che viaggia da un posto all'altro senza a qualcosa del cavaliere della triste figura stavo leggendo un saggio di Unamuno su Don Quixote cioè questi personaggi tipicamente spagnoli che sono che vivono in un mondo cioè forse è quello che c'è mente tex gli eroi bodegniani ma anche gli eroi americani del nord americano hanno comunque un destino da compiere il mondo da salvare i buoni da salvare gli eroi dei sudamericani vagano in un mondo senza speranza senza alcuna consolazione e così via e per me Dago è comunque un eroe che mi ci ritrovo perfettamente non fisicamente ovviamente ovviamente non mi sembra però è la filosofia di Dago che mi ritrovo in senso sesto che sono un personaggio abbastanza scontroso e misanto quando cerco la compagnia degli altri cioè non è che non la cerco se ci sto con gli altri sto bene con gli altri ma sto bene anche da solo ripeto sempre quando quando nasci per questo anche sul caso Torretta insomma la sorella della vittima ha accusato la famiglia di secondo me non vale molto il principio della famiglia in base alla mia famiglia io dovrei essere il mostro di Dussendorf perché in base a quello che cioè io ho avuto un'infanzia orribile però alla fine ho capito una cosa quelli che come me hanno avuto un'infanzia terrificante alla fine scatta un'empatia verso chi soffre che io ho ma non perché sono buono ma perché capisco la sofferenza di alcune persone perché l'ho provata io quindi capisco quando un ragazzo soffre perché l'ho provata io nella mia pelle quindi capisco quando c'è qualcosa che non va e quindi questo l'empatia è quello più che la bontà io non sono buono però mi riesco a capire a volte empaticamente quando c'è un malessere in qualcuno e questo e questo l'ho capito soffrendo cioè nel senso sembra strano mi ha educato cioè sembra strano ma i miei genitori mi hanno educato benissimo nel senso rifiutandomi e facendomi passare un'infanzia orribile mi hanno fatto capire che l'amore non è qualcosa che si può pretendere neanche dai tuoi stessi genitori che è una grande lezione se ci pensate bene quando tu arrivi a capire che dall'altro non puoi pretendere nulla se vuoi stare con te bene se non ci vuoi stare con me facile mi metto cioè io da bambino ho le immagini di me che mi prendo un quaderno e mi metto a disegnare sì è un principio d'autismo certamente su questo siamo tutti d'accordo però alla fine mi creavo il mio mondo e in quel mondo cercavo di salvarmi dalle da un neofragio delle tempeste fuori quindi non Dago che è un personaggio che ovviamente sta con gli altri eccetera però che alla fine come sempre alla fine ovviamente se ne va per i fatti suoi e lascia cioè non è un personaggio che si lega perché anche Dago ha avuto subito un trauma quindi è ovvio che il mio riportarmi a Dago è ovvio che io mi identifico con Dago perché con Tex con Tex come faccio identificare con Zagor che meno che sta sempre con Cico io Cico dopo due o tre puntate l'avevo buttata fuori dal calcio nel sedere ma non perché gli amici appiccicano la vede ora un po' meno però all'università c'è sempre quello che un po' ti si appiccica dove ti stacchi mi ricordo a Truisi e l'Ell Arena c'era la scena che l'Ell Arena è stato lasciato dalla ragazza e tormenta il povero Truisi io ho avuto una storia simile con quell'amico lì che ti tiene in ottanta sveglia a parlarti della sua ragazza e tu lo vorresti uccidere ma è il massimo che diventi anche cattivo e crudente ma sono tutte storie passate e quindi non ho problemi a stare da solo anzi alla fine alla fine mi rendo conto che in compagnia degli altri più di tanto più di tanto più di tanto più di tanto non li reggo e probabilmente giustamente gli altri non reggono me ma hanno perfettamente ragione naturalmente questo è uno dei motivi per cui faccio video nel senso che chiunque possa può guardare questo video può speggere il canale il come si chiama il coso quello che fa pipipi lo schermo quando gli pare non c'è il bello di fare dei video su youtube è questo che in un certo senso io faccio questo video non ho la minima idea di chi guarderà questo video cioè alcuni si riconoscono certamente sono come Lucchini so che però nel senso di prendiamo un esempio di un video vabbè a parte l'ultimo sì poi c'è quello che ti insulta perché gli hai attaccato perché poi gli hai profanato il suo dio fumettistico ma che ne so nella ristampa di Martin Mysterio è stato visto da 234 persone non ho la minima idea a parte di questi 234 probabilmente alcuni si sono fermati al secondo minuto alcuni hanno visto tutto il video ma non ho l'idea di che reazione hanno avuto cioè è un po' come l'attore che sta sul palcoscenico che ne sa l'attore di chi cioè per fare video su youtube bisogna avere un po' il temperamento da attore essendo insegnante è ovvio che è un po' scelreale del temperamento da attore però ti butti lì poi magari uno dorme un altro mentre fa il video che ne so si mangia un panino col salame tutto questo però tutto questo per una persona come me va anche bene nel senso che poi non crea un legame cioè nel senso un legame ci può essere qualcuno può avere piacere al vedere però qualcuno vuole vedermi dal vivo come qualcuno è venuto a Firenze ci siamo incontrati nel senso ma non è che poi voglio dire non è che ho creato un Okusai Bar fan club ci mancherebbe anche quello e quindi è un po' mi rendo conto anche dal punto di vista psicologico un modo per avere per creare anche una distanza può sembrare brutto ma è un po' sì nel senso che poi le persone dal vivo dopo un po' tendenzialmente tenderesti a strozzarli c'è una pazienza che ultimamente sta scadendo no ma sono anche simpatico sono anche simpatico però dopo un po' a volte mi cioè c'ho questi momenti che in cui condago c'ho un momento anche di mutismo in cui mi astrago in un mondo tutto mio e chi e chi deve stare con me non lo so insomma a nessuno a questo punto ormai questo punto ormai le gestioni le gestioni che ha avuto avuto che ho dato il dato che ci crediamo su passato simpe Napoli concludendo con Dago è una bella storia un po' cupo certo mi sembra che Simiona la copertina non è che abbia promesso cose allegrissime la peste ovviamente mi piace molto ecco il disegno di Caniva mi piace come il disegnatore lo conosco ormai da tanti anni chi legge Dago io leggo Dago ecco non è che sono cioè vorrei dire che qualcuno dice non sono un esperto di Dago sono uno che ha letto tanti Dago se questo può creare un'expertise sì ma non più di questo nel senso ormai se vedo Wood Vomits Salina per esempio a me il Dago che piacera più di tutto era quello di Salina quindi Salina è quello che mi piaceva di più ma Salina poi non ha lavorato tantissimo con Dago quindi non ha fatto tantissime storie però il disegno che mi piace di più è Salina se il Dago non ce l'ho qui ho dei numeri di là non li vado a prendere i primi numeri il primo Dago e naturalmente anche Dago è cambiato che aveva il disegnatore incide molto per esempio nella Bonelli questa cosa non c'è molto l'idea che il disegnatore cambia completamente il personaggio Salinas Dago di Salinas Alberto Salinas e questo il Dago di Salinas era veramente spettacolare questo è il Dago di Salinas ma bellissimo con morte perché il disegnatore cambia tantissimo lo stesso personaggio molto spesso Ramonelli danno un po' per scambiare i disegnatori il Dago di Salinas e di Caliva è diverso da quello di Gomez cioè proprio il volto del Dago di Caliva per esempio è un po' diverso è diverso diciamo un aspetto molto il Dago di Caliva è molto spagnolo in senso molto il Dago della triste figura il Dago di Salinas era un Dago più adolescenziale era un ragazzino cioè il Dago di Mo Gomez è un Dago molto duro cioè cambia veramente il personaggio cambia completamente il personaggio dipende da chi lo disegna e le stesse c'è anche alcune storie di Wood disegnate da Caliva sono diverse da quelle disegnate da Gomez perché il disegnatore sembra strano ma dà un'atmosfera come la luce insomma come un suono che per coste per coste sta derivando che è un suono che ha un sottofondo che è tutta un'altra roba cioè il disegno di Caliva è tutta un'altra roba Caliva è un grande disegnatore di donne insomma di personaggi femminili e di mostre cioè il bufone di Caliva è disegno persone mostruose come questo che è condannato a non dormire a ricordare tutte e poi delle donne bellissime va bene non so se va convinto comunque passo e chiudo perché sono anche un po' stanchino devo andare a dormire perché sono veramente sfinito buonanotte e ci si vede e a prossima calare della notte io esco dal dal sarcofago tra l'altro domani è il primo giorno che non ricomprerò risparmio 6 euro perché domani non compro più sataniche quindi vado avanti a esaurimento scorti chi ciò ciò non so ancora il 37 esodo deve arrivarsi tanto quanta roba c'ho da fare ancora con sataniche però sataniche vorrei concludere vabbè le storie di magno sono dio permetteva un po' stagino